ed ecco che allora questa sera ancora vivremo questa serata di caris grazia piena vita in abbondanza grazia piena vita in abbondanza anche grazie o soprattutto anche grazie allo spirito santo a questo spirito di dio che abbiamo iniziato a vedere un po la scorsa volta è una persona ed è stata promessa da gesù la maggior parte dell'antico testamento ci parla della venuta di gesù l'incarnazione gesù incarnato poi ci parla di due cose della venuta dello spirito santo l'altro consolatore come lui e poi del suo ritorno nella gloria quindi i non gli ultimi tempi ma proprio il tempo in cui ci sarà la seconda venuta bene cari fratelli e sorelle questa è la seconda serata dal titolo le cinque promesse dello spirito santo la prima promessa che gesù ha fatto in giovanni 14 versetti dal 15 al 17 proprio stato vi manderò un paraclito cioè un altro come me che vi aiuti che vi difenda che stia con voi sempre 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 e se gesù nella carne poteva essere in un posto solo questo spirito santo paraclito può essere con tutti quindi come se gesù fosse in questo momento con tutti non come se ma gesù attraverso la potenza dello spirito santo è con tutti noi ovunque e sempre abbiamo anche visto quindi che nessuno può più dire io sono da solo perché gesù è con noi sempre l'emmanuele il dio con noi lo è attraverso lo spirito santo paraclito abbiamo visto la seconda promessa che lo spirito santo sarebbe stato il nostro maestro interiore il maestro interiore colui che ci insegna colui che ci insegna colui che ci insegna la via verso la vita ci insegna quindi la verità e in questi tempi di grandi menzogne che il nemico spaccia attraverso governanti attraverso i mass media attraverso anche viene da dire falsi virologie e cose del genere ecco che abbiamo bisogno dello spirito santo abbiamo bisogno dello spirito santo per scoprire dove sta la verità qual è la verità ebbene difatti la promessa la seconda promessa di gesù è stata riceverete questo consolatore che sarà in voi e vi insegnerà ogni cosa e dopo aver insegnato ogni cosa vi renderà testimoni la terza promessa lo spirito santo che è la profezia di gesù viene in noi e ci fa parlare gesù attraverso la nostra vita anche perché noi o parliamo con la nostra vita del fallimento del male dell'oscurità oppure parliamo della luce oppure parliamo della luce quindi vogliamo accogliere questo spirito santo promesso che ci fa diventare testimoni fra l'altro dicevamo la scorsa volta è inutile che cerchiamo con le nostre parole di convincere gli altri lasciamo che lo spirito santo convinca il nostro cuore che 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 non c'è altro dia lì fuori di gesù cristo e che poi lo spirito santo attraverso di noi ci renda testimoni testimoni per tutti gli altri bene questo era il piccolo riassunto della scorsa volta quindi 5 meno 3 fanno 2 mancano due promesse la quarta e la quinta e allora questa sera vediamo la quarta e la quinta promessa fatta da gesù riguardo allo spirito santo quarta promessa spirito santo è rivelazione andiamo in giovanni capitolo 16 versetti dal 7 all'11 siamo quindi ve lo ricordo nel quarto nel quarto nel quarto vangelo il vangelo di giovanni forse il più difficile siamo in giovanni qui capitolo 16 gli ultimi capitoli prima della sua morte dove dal suo saluta ai suoi discepoli dicendo le cose futuro ciò che avverrà una specie di testamento io dovrò andare ma vi manderò lui non piangete io adesso vado ma poi sarete consolati non vi preoccupate e sta proprio parlando di questo sta parlando di questo di questa persona nuova che sarebbe venuta al suo posto che nessuno conosceva ancora perché non si era ancora manifestato in quel modo lo spirito santo sì in un certo modo nell'antico testamento sì dalla creazione è presente lo spirito di dio ma la grande venuta dello spirito santo sarà da pentecoste dalla pentecoste e che cosa promette che verrà uno spirito santo che darà rivelazione siamo in giovanni 16 versetti dal 7 all'11 permettetemi però una una piccola parentesi diciamo così la madonna di me giugorio la madonna è una sola ma quella che appare a me giugorio chiamiamola così il 22 maggio 2021 quindi alcuni giorni fa esattamente tre giorni fa e ha avuto un'apparizione straordinaria a ivan e ha detto figlioli che i vostri cuori siano pronti ad ascoltare vivere tutto quello che lo spirito santo ha come piano per ognuno di voi e per tutte le vostre famiglie permettete allo spirito santo di guidarvi sul cammino della verità e della salvezza grazie cari figli per aver risposto alla mia chiamata molto molto interessante che la la regina della pace per indicarci la via della pace ci parla dello spirito santo e ci dice quello che ci sta dicendo queste queste due catechesi vedremo ancora dopo lo spirito santo e rivelazione ma anche quello che che ci ha già detto figlioli i vostri cuori siano pronti ad ascoltare 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 abbiamo visto la seconda promessa era quella del del maestro interiore dobbiamo imparare ad ascoltare quindi chi lo spirito santo il maestro interiore perché ha qualcosa da dirci la madonna viene a dirci ascoltate lo spirito santo perché vuole parlarvi sì ma la madonna ci parla ma la maggior parte di cose ce le dirà personalmente lo spirito santo a me e a te quindi dobbiamo imparare a fare silenzio dobbiamo imparare il linguaggio di dio dobbiamo imparare il linguaggio di dio lo so che molte volte molti di voi fanno domande l'ho fatta anch'io per tanto tempo come imparare discernere come imparare ad ascoltare la voce di dio come abbiamo fatto un percorso sul discernimento che poi non basta mai perché c'è sempre da imparare ad ascoltare la voce di dio i salmi ci sono vari salmi che dicono il messaggio corre veloce non è un qualcosa di nascosto ma qualcosa di aperto solo che non conosciamo il linguaggio di dio dobbiamo imparare in questi tempi a sviluppare un po di più di orecchie spirituali per imparare ad ascoltare la madonna ci dice siate pronti ad ascoltare quello che lo spirito santo ha da dirvi quindi quindi ci dice la madonna lo spirito santo vuole parlare a ognuno di voi a ognuno di voi ad ascoltare e vivere ascoltare e vivere li possiamo mettere assieme in un verbo solo che conoscete sicuramente che obbedienza obbedire ob audire ascoltare e mettere in pratica la madonna quindi ci dice beh non puoi obbedire se non hai ascoltato e questo lo sappiamo bene quindi la prima cosa da fare è metterci in ascolto della voce di dio che ci parla attraverso lo spirito santo che poi può usare altri può usare gli eventi può usare tante cose ma lo spirito santo ci farà capire che quella persona ci sta parlando sottunzione ci farà capire che 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 quel quadro mi sta parlando mi farà capire che quella catechesi e per me mi farà capire quelle tutte queste cose era un paio di settimane fa due o tre settimane fa stavo portando il mio terzo genito samuele in giro con la carrozzina era sabato mattina e l'ho portato a fare un giro era da solo con lui stavo pregando per una cosa dicevo beh dicevo qui nella carrozzina c'è samuele samuele a un certo punto disse parla il tuo servo ti ascolta quindi detto dio parla il tuo servo ti ascolta vado avanti 500 metri e trovo un post it messo su un muro e c'era scritto realizzo tutti i tuoi sogni su quel post it difatti ho preso poi il cellulare ho fatto la foto questo post it che era lì messo da chi non lo so so che lo spirito santo mi ha detto ecco ti sto parlando realizzerò i tuoi sogni e in qualche modo già il nome samuele sta sta dire questo ma ancora di più ma ancora di più questo per dirvi che lo spirito santo può parlarci in tutti i momenti dio può parlarci in tutti i momenti permettiamo qui nello spirito santo lo vedremo nel quarto punto la rivelazione ci può aprire gli occhi dire dio mi sta parlando dio mi sta parlando e lo spirito santo che ci fa capire queste cose la madonna ci sprona in questo momento ad imparare ad ascoltare che cosa lo spirito santo ascoltare e vivere obbedire obbedire ma ascoltate frato dice tutto quello che lo spirito santo ha come piano per ognuno di voi e per le vostre famiglie proprio in questi tempi in cui la famiglia distrutta in tempi in cui genitore uno genitore due l'altro su l'altro giù e tutto uguale tutto bene la madonna dice no c'è un progetto per ognuno di voi e per le famiglie e per le famiglie le famiglie devono imparare a pregare e ascoltare e ascoltare la famiglia marito e moglie se siete tutti e due convertiti diciamo così ringraziate dio vi ha fatto un grande grande dono le famiglie devono imparare ad ascoltare perché dio ha un progetto per me massimo per mia moglie sarà per ognuno dei miei figli ma un progetto anche di coppia padre peter sanderson di fame colpi perché disse c'è una profezia per ogni famiglia c'è una vocazione diversa per ogni famiglia quale qual è la vocazione per la tua famiglia qual è la chiamata e di andare a lavorare di tornare puoi andare in ferie poi questo poi quello poi su poi giù no sì anche si va a lavorare si fanno tutte queste cose va benissimo ma qual è non si parla più di invocazione ormai tutti devono solo far successo questo e quell'altro ma nessuno riesce a capire per cosa è stato creato fratello sorella per cosa sei stato creato per cosa sei stata creata e perché dio ti ha dato quel marito quella moglie o per voi fidanzati perché ti sta dando a quel fidanzato quella fidanzata per cosa ah vorrei fidanzarmi ma quando c'ho tutti i soldi mi vorrei sposare quando c'ho tutti i soldi quando questo quando su quando giù quando cari fidanzati imparate a pregare ad ascoltare la voce di dio single esercitati a pregare in questo momento ad ascoltare e se puoi aspetta che ci sia uno che con te ascolti la voce di dio perché perché altrimenti non si potrà ma è realizzare il progetto che dio ha per la tua famiglia il diavolo ti porterà un fidanzato una fidanzata a poco costo sì che stimoli stavo per dire delle cose che non posso dire in diretta noi dobbiamo cercare qualcuno che come noi abbia voglia di ascoltare la voce di dio e guardate in questi tempi oscuri chi non ascolta la voce di dio fa una brutta fine quindi cerchiamo proprio di ascoltare il piano che ha per ognuno di noi beh dice che lo spirito santo ha come piano per ognuno di noi san paolo dice che il padre che ha un progetto per ognuno di noi e lo spirito san paolo è molto bello la teologia di paolina ha uno spessore san paolo a un certo punto in una epistola che non mi ricordo quale dice il nostro spirito è quello interno a noi e quindi è quello che veramente conosce il nostro cuore così lo spirito di dio conosce il cuore di dio e lo spirito santo è l'unico che ci rivela il progetto che il padre ha quindi per ognuno di noi come lo spirito santo se leggete in luca 4 è sceso su gesù e la unto per guarire liberare sanare per realizzare il progetto che il padre aveva su di lui cari fratelli e sorelle bello è questo messaggio di me giugorio dato di van 22 maggio il padre ha un progetto per me e per te l'unico che ce lo può rivelare lo spirito santo lo spirito santo si poi può parlarti attraverso un carismatico attraverso attraverso qualcuno e ma soprattutto vuole parlare al tuo cuore lo spirito santo ti vuole rivelare qual è la tua vocazione qual è il progetto che dio ha per te impara ad ascoltarlo e poi vivere quello che ti dirà e poi prosegue la madonna dicendo permettete allo spirito santo di guidarvi sul cammino della verità e della salvezza permettete quindi non basta essere battezzati non basta ricevere la comunione l'eucaristia non basta andare a confessarsi ma bisogna poi permettere allo spirito santo di guidarci sul cammino della verità abbiamo detto prima ci sono tanti di quegli spiriti nel mondo menzonieri che vogliono portarci dall'altra parte invece lo spirito santo è l'unico che ci guida verso la verità e quindi verso la salvezza salvezza significa due cose uno essere tirati fuori da tutto quello che ci blocca e due quindi portarci verso la terra promessa il luogo di realizzazione e ritorniamo a prima realizzare la piena vocazione che dio ha per noi due frasi che hanno un mondo intero ci ha detto la madonna ve lo rileggo e poi proseguiamo con la quarta promessa di Gesù e la madonna ha fatto un piccolo riassunto figlioli che i vostri cuori siano pronti ad ascoltare e vivere tutto quello che lo spirito santo ha come piano per ognuno di voi e per tutte le vostre famiglie permettete allo spirito santo di guidarvi sul cammino della verità e della salvezza grazie cari figli per aver risposto alla mia chiamata bene allora andiamo adesso al quarto punto che stavamo leggendo prima che bello eh la madonna si è intrufolata in mezzo a queste due settimane dal martedì scorso a questa serata ha messo questo suo messaggio che tiene ancora tutto insieme che tiene tutto insieme spirito santo e rivelazione Giovanni capitolo 16 versetti dal 7 all'11 ma io vi dico la verità è bene per voi che io me ne vada perché se non me ne vado non verrà a voi il paraclito se invece me ne vado lo manderò a voi e quando sarà venuto dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato alla giustizia e al giudizio riguardo al peccato perché non credono in me riguardo alla giustizia perché vado al padre e non mi vedrete più riguardo al giudizio perché il principe di questo mondo è già condannato spirito santo e rivelazione avete la bibbia? rileggiamolo un attimo assieme ma io vi dico la verità è bene che io me ne vada la prima cosa che ci rivela che ha rivelato Gesù era proprio che lui doveva andarsene perché altrimenti se restava lui non sarebbe venuto lo spirito santo ci sono dei momenti della nostra vita che ci sembra di perdere qualcosa per poi averlo ancora di più ancora di più Gesù se ne va ma per mandare il paraplito questo spirito onnipresente quindi ovunque andiamo lui c'è e che cosa succede? e quando sarà venuto c'è scritto dimostrerà mostrerà rivelerà la vecchia traduzione era diversa questa è quella ve l'ho detto tante volte uso l'ultima traduzione della conferenza episcopale italiana dei Vescovi 2008 e l'ultima traduzione è dimostrerà dimostrerà mostrerà dimostrerà porterà alla luce rivelerà che cosa? la colpa del mondo riguardo al peccato alla giustizia e al giudizio la prima cosa che dice quindi questa rivelazione è una rivelazione che viene solo dallo spirito santo cioè quante volte noi cerchiamo di parlare magari ai nostri cari o gli altri di certe verità e non succede nulla neanche Gesù dice lo faccio io ma lo farà lo spirito santo e dimostrerà farà vedere aprirà gli occhi riguardo al peccato aprirà gli occhi riguardo alla giustizia aprirà gli occhi riguardo al giudizio e poi prosegue spiegandolo riguardo al peccato perché non credono in me riguardo al peccato perché non credono in me quindi il grande peccato è non credere in Gesù non credere in Gesù difatti Gesù dirà che il peccato contro lo spirito santo è quello che non viene perdonato che è quello di non credere che Gesù è il Signore l'unico Signore e Salvatore ecco perché lo spirito santo è rivelazione perché solo lo spirito può aprire gli occhi al mondo intero dicendo guardate che esiste un Salvatore che è Gesù Cristo l'unico che c'è e non ve ne sono altri non vi sono altri non ha salvato il mondo Buddha non ha salvato nessun altro non solo Gesù Cristo solo Gesù Cristo Gesù è l'unico che è venuto a rivelarci il Padre e a salvarci e lo spirito santo viene e rivela il peccato il peccato è non vedere non credere che Gesù è il Signore che è il Salvatore che è quello di cui abbiamo bisogno che non ci salviamo da soli che non ci salviamo da soli ma che abbiamo bisogno di Gesù abbiamo bisogno di Gesù e non dobbiamo mai disperare perché Gesù è anche venuto quindi lo spirito santo perché abbiamo bisogno di questo spirito santo anche io e te uno perché io e te continuiamo a credere in Gesù perché potremmo dubitare a un certo punto il peccato contro lo spirito santo cioè uno potrebbe commettere gli altri peccati ma poi allo stesso tempo Gesù perdonami ho fatto ne ho combinati di tutti ti chiedo perdono vi ricordate Davide chiese perdono era stato omicida e adultero i due peccati più grandi omicidio e adulterio ebbene è stato perdonato gli dirà il profeta Nathan sei stato perdonato per aver chiesto perdono e allora ecco che lo spirito santo viene e può rivelarci tutte queste cose ma se noi non crediamo in Gesù non possiamo essere perdonati perché solo Gesù ci può perdonare Gesù perdona il mondo intero perdona tutti tutti quelli che credono in lui non sono venuto a giudicare non sono venuto a condannare ma a salvare perché chiunque crede in me non sia giudicato ma chi non crede è già stato giudicato ecco che lo spirito santo viene proprio a compiere questa cosa aprire i nostri occhi farci vedere che Gesù non è venuto a farci festeggiare tutti gli anni Natale il 25 l'incarnazione e poi a Pasqua perché poi così Pasquetta andiamo a fare la carne all'assado e così via e c'è Pasqua Pasquetta le prime le prime volte in cui andiamo nei prati in giro a mangiare a fare no lo spirito santo ci fa vedere che da soli non ci possiamo salvare che ci possiamo salvare solo attraverso Gesù che Gesù è già venuto e quindi attraverso la fede che abbiamo in Gesù noi siamo salvi ma tutto questo la nostra mente fa difficoltà a crederlo e dobbiamo sempre invocare lo spirito santo invocarlo sui nostri cari perché credano in Gesù a volte è così difficile convincere le persone difatti non possiamo convincere noi e quando sarà venuto dimostrerà abbiamo letto la vecchia traduzione diceva convincerà quel convincere significa proprio dimostrare rivelare far vedere ecco che quindi c'è bisogno dello spirito santo per dimostrare far vedere a noi e i nostri cari che Gesù è il salvatore e che se non credi sei nel peccato il grande peccato contro lo spirito santo punto 1 di rivelazione punto 2 riguardo la giustizia perché vado al padre non mi vedrete più c'è una differenza fra il bene e il giusto fra il bene e il giusto noi a volte confondiamo le cose ah ma quella sarebbe una cosa buona ma è giusta ma è giusta in questo caso di fatti dice io devo andare al padre per pregare per voi voi vorreste che io sto qua no ma lo spirito santo farà capire quali sono le cose giuste nella vita perché tante volte c'è difficile noi confondiamo il buonismo anche per giustizia e la giustizia non è la giustizia di non è quella giustizia divina intesa come hai 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 sbagliato quello e verrai giudicato ma la giustizia come inteso proprio la via giusta camminare nella divina volontà di Dio qual è la cosa giusta qual è veramente la cosa giusta nella mia vita perché allora in questo momento noi vorremmo tutti che la pandemia sparisse per fare che cosa per tornare alla normalità ma è giusto che torniamo alla normalità eh ma così staremo meglio ma se stare meglio significa continuare a vivere nel peccato e dannarci forse non è la cosa giusta e quindi non è il bene è molto sottile questa cosa dobbiamo sempre chiederglielo e lì casca una volta dice un casca l'asino casca la non conoscenza della giustizia cioè noi dobbiamo permettere allo Spirito Santo che ci faccia vedere qual è la cosa giusta in quella situazione così possiamo pregare secondo quella cosa giusta che è verità giusta e così sappiamo di averla ottenuta perché quella è la cosa giusta per quella persona quella è la cosa giusta per quella persona vi faccio un esempio sono andato una volta qualcuno di voi ha detto di non andare a messa o pregare no no io non ho mai detto quello ascoltate bene chiedete allo Spirito Santo che vi spieghi bene io dico dobbiamo andare a messa a fare tutte quelle cose e quando usciamo da quelle cose dobbiamo seguire le indicazioni dello Spirito Santo non basta ho detto andare a messa poi avere i cuori chiusi attenzione ecco di fatti Francesca ha detto scusate di solito non leggo mai i commenti ma lo Spirito Santo pinuccia scusa ma non dite queste cose vedete qual è il grande problema che noi non ascoltiamo le cose che ci dicono le persone figuriamoci se ascoltiamo le cose che dice Dio dobbiamo fare attenzione perché la maggior parte magari va a messa e poi dice adesso sono a posto noi non saremo mai a posto se non apriamo il cuore a Dio noi non saremo mai a posto perché siamo andati a messa questo è bigottismo questa è noi andiamo a messa perché io vado a messa il più possibile perché voglio incontrare Dio una volta andavo a messa perché i miei mi mandavano perché altrimenti mi facevano un culo così poi perché poi così non mi davano più soldi per uscire di qua e di là ma quello non era andare a messa andavo a messa ma non c'avevo niente scusate il mio francesismo in questo momento anche Gesù tante volte non l'hanno capito e diceva che diceva altre cose attenzione dobbiamo fare tutte quelle cose grazie allo spirito santo le facciamo bene senza lo spirito santo senza lo spirito santo è tutto vano è tutto un culto senza grazia è morte tutto e vedete come tante volte si esce dalla messa più morti di prima perché? perché nonostante che c'era il sacramento lo spirito santo non è riuscito a vivificare i nostri cuori la presenza dello spirito santo nell'eucaristia non è riuscita a darci vita attenzione vi chiedo solo questo fate attenzione fate attenzione difatti devo istruire qualche collaboratore a rispondervi sempre perché altrimenti poi andate a dire certe cose in giro che non ho mai detto come anche Gesù dicevano che aveva detto certe cose ma non le aveva mai detto va bene bene allora abbiamo detto allora dove ero finito ah sì vi dicevo la testimonianza sono andato a pregare una volta con una cara signora da un'altra signora che era malata e in quel momento ho sentito che dovevo chiedere la sua guarigione che stesse bene e mi ricordo mentre stavamo pregando ho avuto un'immagine di una barca e poi di colpo Gesù che placava il temporale glielo ho detto a questa signora vedo Gesù che placa questo temporale e l'altra signora che era dall'altra parte del letto perché eravamo andati a pregare a casa sua che era nel letto aveva un tumore e disse si messe a piangere e gli disse cosa c'è ho lo stesso passo di Gesù che placa la tempesta e quella signora ha ricevuto una consolazione e ha iniziato a stare molto meglio è riuscita ad affrontare quel tempo molto meglio è stata bene passa un anno o due a un certo punto riparte questo tumore e vado a trovarla in ospedale vado a trovarla in un ospice e mentre stavo arrivando so che ho detto no prego di nuovo questa volta e mentre vado da quella signora a pregare a un certo punto vedo ho l'immagine di una persona e una luce che usciva la sua anima che stava uscendo da lei andava verso il cielo e lì ho capito che Dio mi stava dicendo che era il suo momento quindi mi ha detto non pregare per la sua salute ma per la sua salvezza e allora sono andato lì ancora a trovarla ancora vissuto per un paio di mesi e ho chiesto al signore proprio di prepararla mi ricordo che il sacerdote a messa disse io devo testimoniarvi che sono andato alcune volte da lei in questi ultimi tempi ed era lei che dava forza a me e non io a lei è stata veramente una persona che si è preparata per la sua dipartita e ho detto gloria a Dio la cosa giusta la cosa giusta la cosa giusta capite? allora lo Spirito Santo viene a rivelar la colpa cioè porta la conversione perché se non c'è conversione c'è colpa c'è peccato ah ma mio figlio è buono ma quello Dio non cerca persone buone cerca persone che credano in lui perché attraverso quello c'è la salvezza dice San Paolo noi siamo giustificati grazie alla fede per grazia secondo punto lo Spirito Santo ci fa vedere la giustizia quali sono le cose giuste e poi il giudizio il principe di questo mondo è già condannato ah interessante noi viviamo nel già non ancora cioè Gesù sulla croce è già sconfitto il maligno eh ma è pure in giro certo in giro c'è ancora e sono gli ultimi tempi questi in cui il maligno si sta manifestando ma ormai è già condannato il maligno anzi proprio per questo che si sta sfogando perché sa che gli rimane poco tempo e allora noi dobbiamo credere in questa cosa che Gesù ha già vinto sulla croce non deve venire un'altra volta noi non dobbiamo chiedere che Gesù venga a vincere un'altra volta ma dobbiamo pregare con la potenza dello Spirito Santo che la vittoria di Gesù sulla croce venga applicata nella nostra vita e allora ci saranno guarigione liberazione e salvezza perché per le sue piaghe siamo già stati salvati siamo già stati guariti siamo già stati liberati come faccio a spiegarvelo non posso solo lo Spirito Santo può rivelarci che duemila anni fa Gesù ha già fatto per me per te ha già fatto per il futuro è già tutto lì lo Spirito Santo ce lo rivela ci rivela questa cosa ci rivela che il nemico è già stato giudicato quindi non può cambiare il maligno andrà all'inferno e con lui tutti i suoi figli e non può più cambiare e quindi noi non dobbiamo avere paura del maligno perché è già stato sconfitto quindi il quarto punto il quarto punto è proprio è proprio questo Spirito Santo è rivelazione lo Spirito verrà a rivelarci queste tre cose rivela che Gesù è l'unico Signore Salvatore rivela quali sono le cose giuste e rivela che il nemico è già sconfitto e fra l'altro se noi abbiamo la rivelazione è che Gesù è già stato sconfitto non avremo più paura di lui guardate che il nemico è un artista mentitore cioè è come i nostri politici è un artista mentitore riesce a spacciare per verità la menzogna ci fa credere che il nemico è fortissimo e che Dio è poco e che no no noi dobbiamo permettere allo Spirito Santo che ci dica guardate che il nemico è già stato sconfitto certo per una persona che non cammina con Dio è grave perché il nemico può avere autorità ma se noi camminiamo con Dio siamo nel palmo di Dio e quindi il nemico non non avrà vittoria Pinuccia dice vieni Spirito Santo io non ho detto che Massimo dice di non andare a messa allora abbiamo letto male scusaci Pinuccia ma sembrava quella cosa che avevi che avevi detto prima perché anche la Francesca ha risposto a quella cosa beh io non dico mai appunto di questa cosa io non dico mai di non andare anzi ci vado tutti i giorni dico andate 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 più potete prenderla e più però prendetela diceva un sacerdote che noi dovremmo chiedere allo Spirito Santo di farci vivere ogni messa e ogni sacerdote dovrebbe imboccare lo Spirito Santo prima di celebrare la messa perché ci sia un luogo aveva detto Papa Francesco un luogo teologico di salvezza nella durante nell'assemblea Dio mio quanto abbiamo da imparare bene Spirito Santo e glorificazione Spirito Santo e glorificazione lo Spirito Santo e la glorificazione di Gesù Pinuccia ti vogliamo bene Pinuccia ma anch'io ho letto allora male comunque quindi importante che non dite che io dico di non andare a messa se ne dicono già tante già il nemico cerca di attaccare a tutto andare almeno noi non diciamo così in giro alleluia gloria Dio Spirito Santo e glorificazione di Gesù il quinto punto il quinto punto lo Spirito Santo e la glorificazione di Gesù e così poi concludiamo prendiamo Giovanni capitolo 16 versetti dal 12 al 15 Giovanni 16 versetti dal 12 al 15 molte cose ancora da dirvi ma per il momento non siete capaci di portarne il peso quando verrà lui lo Spirito della verità vi guiderà tutta la verità perché non parlerà da se stesso ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà tutto quello che il Padre mio possiede è mio per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà Ah Gesù Giovanni è un po' complicato è un po' complicato si faceva varie dosi di Spirito Santo per poi scrivere queste cose e noi se non ci facciamo tanto Spirito Santo in vena nel cuore e nella mente facciamo difficoltà a comprendere Giovanni beh la cosa che qua ci dice innanzitutto sta parlando del Padre di Gesù e dello Spirito Santo quindi di tutta la Trinità quindi dice che lo Spirito Santo è unito intimamente a Gesù e Gesù è unito intimamente al Padre c'è una grandissima intimità e quindi allo stesso tempo dice che anche noi possiamo diventare intimi a Gesù nello stesso modo e quindi intimi al Padre e questa è già una cosa meravigliosa e poi ci dice che dice verrà lo Spirito della verità quindi non della menzogna ma della verità uno Spirito di luce uno Spirito che ci fa vedere le cose con gli occhi di Dio come le vedrebbe Gesù lo Spirito Santo viene ci fa vedere quello che ha fatto Gesù quello che vuole fare Gesù quello che ci sta dicendo Gesù come abbiamo sentito prima nel messaggio di Medjugorje verrà lo Spirito Santo e glorifica Gesù cioè ci fa ascoltare la voce di Gesù e la voce di Gesù è quella che il Padre ha messo in Gesù Gesù ci teneva a dire che lui non faceva nulla senza averlo sentito dal Padre Gesù ci ha sempre tenuto a dire io non sono il grande carismatico ma sono figlio sono uno con il Padre e adesso verrà lo Spirito Santo e vi dirà le cose che io voglio dirvi che sono le stesse che il Padre vuole dirvi attraverso di me Egli mi glorificherà che cosa significa glorificare la gloria è una presenza addirittura con un certo peso dare gloria a una persona significa esaltarla significa riconoscerla significa dare un grande valore allora che cosa succede lo Spirito Santo Gesù ci ha detto in poche parole verrà lo Spirito Santo e vi farà udire la mia voce quindi quella del Padre e mentre udrete questo capirete capirete il valore il valore della vita il valore di Dio e anche il valore di Dio nella vostra vita e quindi il valore della vostra vita cioè lo Spirito Santo viene a glorificare Gesù nella nostra vita e attraverso di noi vuole glorificarlo agli altri glorificare cosa significa? dare quel giusto peso un grande peso a Gesù lo Spirito Santo in poche parole diceva Gesù diceva verrà lo Spirito Santo e vi rivelerà sempre più cose ci sarà sempre più presenza di verità in voi crescerete sempre di più difatti subito dice per il momento non siete capaci di portarne il peso vorrei dirvi tante cose dice Gesù ma non siete capaci a portarne il peso è vero non è facile ascoltare le cose di Dio la parola di Dio ha un certo peso mette in crisi lavora dentro di noi ci ribalta e dentro la parola stessa c'è la presenza di Dio quindi quando noi ascoltiamo la parola di Dio arriva la presenza di Dio e la presenza di Dio è pesante non come quando noi diciamo le persone sei pesante ma ha uno spessore quindi non è da clienti di Dio appunto Gesù cerca amici non clienti e gli amici sono i discepoli che ascoltano e fanno quello che Gesù dice quindi Gesù dice ci sarà un certo momento in cui arriverà lo Spirito Santo di verità e inizierà a parlarvi a parlarvi sempre di più e mentre vi parlerà voi capirete chi io sono e io sarò sempre più presente nella vostra vita e attraverso di voi mi farò sempre più presente nella vita degli altri sempre più presente nella vita degli altri ecco che quindi Gesù vuole che io e te riceviamo questo Spirito Santo ci ha fatto cinque promesse cinque promesse ce l'ha ricordato la Madonna anche di ascoltare e mettere in pratica quindi obbedire a quello che Dio ci dice per realizzare i progetti che il Padre ha e quindi vivere nella verità e quindi poter sperimentare la piena salvezza la piena salvezza cari fratelli e sorelle sì voglio aggiungervi ancora una cosa proprio riguardo al a questo Spirito Santo questi quattro passi lo facciamo velocemente Spirito Santo Cristiani e Sacramenti sempre come vedete contenute in Giovanni Giovanni capitolo 3 versetti dal 6 all'8 quello che è nato dalla carne carne quello che è nato dallo Spirito è Spirito non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto qui Gesù parlava già anche del battesimo cioè del fatto che possiamo essere salvati solo per grazia ok io e Sara abbiamo generato Samuele ma se non verrà battezzato sarà solo nato dalla carne e non dallo Spirito quindi lo Spirito Santo è l'unico che dà la vita di Dio a tutti attraverso il battesimo e non solo attraverso poi una rieffusione rieffusione dobbiamo rinascere dall'alto il vento soffia dove vuole ne senti la voce ma non si sa da dove viene e dove va così è nato così è chiunque nato dallo Spirito noi dobbiamo permettere allo Spirito Santo che faccia funzionare il battesimo dentro di noi sapendo che comunque siamo salvi per grazia non è la carne non sono le nostre qualità che fanno Dio nella nostra vita ma è lo Spirito Santo che fa Dio nella nostra vita attraverso il sacramento del battesimo e attraverso queste nuove fusioni ci ridà vita e vita in abbondanza Giovanni 6,63 è lo Spirito che dà vita la carne non giova a nulla le parole che io vi ho detto sono Spirito e vita qui ci sta dicendo che abbiamo bisogno dell'Eucaristia che abbiamo bisogno della liturgia della parola di ascoltare la parola le parole che ci dice Gesù sono Spirito e vita lo Spirito Santo ci passa attraverso le sue parole passa attraverso le sue parole lo Spirito Santo vivifica le sue parole dobbiamo chiedere allo Spirito Santo che è che l'autore delle Sacre Scritture della Bibbia che ci metta desiderio di leggerla e poi rivelazione mentre noi la leggiamo che ci metta fame siete della parola di Dio dei Sacramenti e della parola di Dio che in qualche modo è Sacramento la parola di Dio perché porta la presenza stessa di Dio le mie parole sono Spirito quindi c'è la mia presenza e verità dobbiamo chiedere allo Spirito Santo rivelaci la parola facci comprendere illumina la nostra mente così e così riceveremo 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 Giovanni 20 22 23 detto questo soffiò e disse loro ricevete lo Spirito Santo a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati a coloro a cui non perdonerete non sarete non saranno perdonati e qui sappiamo che ci sono più letture la prima è quella del Sacramento della della riconciliazione noi la chiamiamo confessione ma è più bello riconciliazione cioè lo Spirito Santo attraverso la Chiesa attraverso i sacerdoti ci riconcilia con Dio non è il sacerdote ma è lo Spirito Santo che ha unto quell'uomo come sacerdote che ci perdona e Gesù Cristo che passa attraverso il sacerdote e ci perdona e quando ci perdona i nostri peccati sono veramente perdonati e allo stesso tempo però dice che anche io e te io e te come discepoli quando perdoniamo lasciamo passare lo Spirito Santo attraverso di noi la prima cosa liberiamo il nostro cuore liberiamo il nostro cuore e facciamo passare lo Spirito Santo verso l'altra persona che perdoniamo sleghiamo le persone da noi perdonandole grazie alla potenza dello Spirito Santo quando dovete perdonare qualcuno chiedete allo Spirito Santo guaritore dei cuori che venga che venga in te caro fratello e cara sorella e solo dopo riuscirai a perdonare veramente ci sarà la guarigione del tuo cuore Giovanni 4 23-24 ma viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità così infatti il Padre vuole che quelli che lo adorano Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità l'adorazione per tante volte noi andiamo davanti al Santissimo e diciamo ho fatto adorazione ascoltatemi bene magari vai davanti al Santissimo e dici un rosario ho detto un rosario davanti al Santissimo bene ho cantato ho fatto meditazione davanti al Santissimo va bene ma alcune volte possiamo non aver fatto adorazione i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità quindi la nostra mente non c'entra più cioè per arrivare alla vera adorazione la Bibbia ci insegna che noi dovremmo imparare a ringraziare Dio a lodare Dio e quindi poi entri in adorazione l'adorazione è un dono dello Spirito Santo l'adorazione è una rivelazione ci fa gustare Dio ci fa entrare nel Kadosh Santo 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 in quel luogo Santo solo lo Spirito Santo ci può portare lì il Cantico dei Cantici solo lo Spirito Santo ci introduce nella stanza del Re che noi desideriamo sì ma solo grazie allo Spirito Santo giungiamo in quella stanza e adoriamo Gesù adoriamo Dio e siamo bocca a bocca con Lui e veniamo fecondati da Lui fecondati perché nella stanza nuziale si sa cosa avviene e quindi veniamo fecondati quanti progetti in più si realizzerebbero se fossimo capaci ad adorare perché durante l'adorazione si sbloccano tante situazioni e Dio può parlare direttamente al nostro cuore come fece con Maria scese lo Spirito Santo e Maria fu incinta però proprio dallo Spirito Santo e quello Spirito Santo lo troviamo in adorazione lo Spirito Santo ci spinge in quella stanza e in quella stanza poi lo Spirito Santo ci parla Dio ci parla attraverso lo Spirito Santo e noi siamo fecondati noi lo adoriamo permettetemi questa cosa che va capita facciamo l'amore con Dio l'adorazione è arrivare all'amore con Dio raggiungere all'amore che è Dio e stare nell'amore ma solo lo Spirito Santo ci può portare lì Dio è Spirito e non è persona Dio è Spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in Spirito e verità bene per dirvi che queste sono le vie maestre questi sacramenti sono delle vie maestre che ci portano a Dio ma non senza Spirito Santo fra l'altro i sette sacramenti non funzionano non avverrebbero se non fosse per lo Spirito Santo ma allo stesso tempo vengono vivificati solo grazie allo Spirito Santo quindi alleluia 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 spero di non avervi complicato la serata e ma che che abbiate ancora più voglia di conoscere Dio e lo possiamo e possiamo conoscere possiamo conoscere Dio solo grazie allo Spirito Santo guardate facciamolo diventare il nostro migliore amico lo Spirito Santo e arriveranno delle luci in qualche momento in cui non te l'aspetti neanche e dirai grazie Spirito Santo grazie dobbiamo ringraziare l'angelo custode ringraziare Maria e soprattutto lo Spirito Santo perché lo Spirito Santo che che ci fa capire anche Maria che fa parlare Maria che porta gli angeli e così via lo Spirito Santo lo Spirito Santo è Dio e come Dio va adorato e glorificato bene allora facciamolo in questo momento le cinque promesse dello Spirito Santo le cinque promesse dello Spirito Santo mettiamoci ancora davanti a Lui e permettiamo ancora che questa Pentecoste proceda Pinuccia ti vogliamo bene vogliamo bene voglio bene a tutti voi ascoltiamo lo Spirito Santo adesso ascoltiamo lo Spirito Santo eccoci qua Gesù tu e il Padre siete una cosa sola e ci avete chiamati qui Maria ci ha portato qui siamo tutti qua alla tua presenza Dio e tu attraverso la potenza dello Spirito Santo hai iniziato a parlarci a illuminarci a guarire sicuramente il nostro cuore a liberare le nostre vite oh Spirito Santo vogliamo ancora più di te vogliamo ancora più di te ancora più di te ci sono queste cinque promesse di questa tua presenza il consolatore il paraglito vogliamo gustare la tua presenza sempre rivela ci che Dio è con noi che l'Emmanuele ma non è una teoria è una pratica tu sei con noi tu sei in noi Spirito Santo vogliamo veramente gustarlo vogliamo gustarlo non vogliamo più dubitare non vogliamo mai più credere di essere soli vogliamo invece avere rivelazione di questa presenza anche quando non sentiamo vieni allora Spirito Santo e rivelaci la tua presenza la presenza di Gesù e la presenza del Padre con noi e in noi vieni ancora Spirito Santo e soffia come maestro ce l'ha detto anche Maria che tu vieni a insegnarci il progetto di Dio vieni a guidarci nel progetto di Dio vieni a insegnarci la via della verità che ci guida fino alla terra promessa viene allora Spirito Santo forse non abbiamo ancora imparato bene la tua voce ma tu parli c'è un linguaggio che tu parli donaci Spirito Santo di poterti comprendere e così potremmo poi dire Amen a quello che ci dici come ha fatto Maria sei Spirito Santo ti chiediamo ancora una effusione di sapienza di intelletto di consiglio di scienza si Spirito Santo vieni in noi maestro maestro interiore guidaci alla verità tutta intera vieni poi ancora Spirito Santo a rivelare a ognuno di noi Gesù e a farci diventare testimoni di Gesù agli altri il mondo ha bisogno di specchi del cielo ha bisogno di lampade accese ha bisogno di volti felici ha bisogno di persone viventi l'uomo vivente è la gloria di Dio diceva Sant'Ireneo Spirito Santo rendici questi uomini e donne viventi in pieno perché gli altri siano attirati dalla nostra testimonianza siano attirati dalla nostra vita da quel qualcosa affinché possano dire voglio anch'io quello che hai tu voglio anch'io quello che hai tu Spirito Santo fa che possiamo far fare bella figura Dio attraverso le nostre vite vieni Spirito Santo rendici testimoni del cielo perché è verità il cielo rendici testimoni del cielo vieni in noi come abbiamo visto questa sera a rivelarci a rivelare a noi l'eventuale colpa di dubbio e passa attraverso di noi toccando tanti altri affinché ci sia questa rivelazione perché tutti anche i nostri cari ti credano credano che Gesù è il Signore ti preghiamo Padre nel nome di Gesù di effondere uno spirito di verità e di rivelazione Signore si parla tanto di carità di accoglienza di migranti di tante cose ma la prima cosa di cui bisogna parlare è di Gesù Cristo Signore e Salvatore la Chiesa è stata creata per questo e allora Spirito Santo soffia 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 rivela al mondo che Gesù è il Signore rivela al mondo che il mondo sarebbe già salvato ha solo bisogno di credere di credere di credere in questo momento in cui il diavolo fa di tutto per togliere anche i crocifissi per oscurare per bloccare Spirito Santo invece soffia ancora di più rivela ancora di più che Gesù è il Signore che è il Salvatore l'unico Salvatore del mondo vieni poi Spirito Santo a rivelarci la giustizia che Gesù è la destra del Padre e che tu sei con noi e quali sono le cose giuste da fare non solo le cose buone ma le cose giuste rivelaci le cose giuste vogliamo camminare nella giustizia divina nella divina volontà facendo le cose giuste facendo le cose giuste realizzando così il progetto il vero progetto che il Padre ha per noi e poi Spirito Santo rivelaci ancora una volta che il nemico è stato sconfitto soprattutto chi magari in mezzo a noi sta vivendo dei combattimenti spirituali forti chi magari in mezzo a noi ha fatto delle esperienze di fatture malocchi maledizioni o eredità spirituali o altro forse ha sbagliato ha fatto scelte sbagliate è finito nell'esoterismo nel mondo dell'occultismo così via viene Spirito Santo ora a rivelare oltre che Gesù come Signore Salvatore anche come Onnipotente viene a rivelarci che Gesù ha già sconfitto il maligno ne ha fatto pubblico spettacolo e nessun cristiano deve avere paura del male dobbiamo temere di essere peccatori ma non il male si Spirito Santo rivela a ognuno di noi che il nemico è già stato sconfitto che è già caduto che noi con la spada dello Spirito facciamo ancora fuori questo nemico con le armi dello Spirito possiamo difenderci e sconfiggere il nemico vieni o Spirito Santo rivelaci tutto questo rivelaci tutto questo Spirito Santo rivelaci tutto questo e vieni ancora a glorificare Gesù verrà lo Spirito Santo e mi glorificherai detto Gesù manda questo Spirito Santo perché ti glorifichi perché la nostra vita sempre più ti conosca e nella nostra vita ci sia sempre più la tua presenza Cristo noi vogliamo arrivare a dire come San Paolo non vivo più io ma Cristo vive in me essere cristiani significa che c'è una glorificazione di Gesù in noi e che noi portiamo Cristo a tutti quelli che incontriamo vieni allora Spirito Santo vieni e compri tutte queste cose ancora di più e mentre fai questo sicuramente ci guarirai ci libererai sbloccherai le varie situazioni economiche affettive fisiche e così via vieni Spirito Santo vogliamo ancora di più di più delusione di più della tua gloria della tua gloria di più abbiamo fame di te perché sappiamo che c'è ancora e molto di più delusione di più della tua gloria di più Spirito Santo noi riceviamo la tua prescazione su noi l'unzione scende in questo momento proviamo a chiudere gli occhi tutti non scriviamo non pensiamo a a questo a quello fissiamo lo sguardo su Gesù Gesù è davanti a te sguardo su Gesù sguardo su Gesù Gesù disse ai suoi discepoli non riuscite ancora a portarne il peso ma verrà lo Spirito Santo vi rivelerà ogni cosa Gesù grazie sei davanti a noi e vuoi farti conoscere attraverso lo Spirito Santo Gesù vuole guarire qualcuno con la potenza dello Spirito Santo in questo momento mettiamo una mano mettiamo una mano sulla parte malata Gesù vuole rivelare a qualcuno che è guarigione lui metti una mano sulla tua parte malata metti una mano sulla tua parte malata e ora lasciamo che lo Spirito Santo guarisca nel nome di Gesù lascia che lo Spirito Santo guarisca l'unzione scende e tocca anche il tuo corpo sta toccando i nostri corpi sta toccando i nostri corpi le nostre cellule e guarisce Gesù aveva guarito tante volte ed ora lo fa ancora attraverso la potenza dello Spirito Santo grazie Gesù grazie che ci guarisci nella potenza dello Spirito Santo grazie 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 di queste guarigioni grazie e allora mettiamo una mano magari sulla nostra testa e consacriamo la nostra mente ancora a Dio e diciamo vieni Spirito Santo vieni a guarire la mia mente a liberarmi da oppressioni ossessioni vessazioni libera la mia mente libera la mia mente da tutto questo perché la mia mente sia illuminata vogliamo rinunciare anche alla menzogna che magari la stessa televisione o altri ci hanno inculcato non sappiamo se quello che pensiamo è verità e allora vogliamo darti autorità Spirito Santo soffia e rivelaci rivelaci la menzogna cioè porta a galla la menzogna nella nostra vita vedi se percorriamo vie di menzogna porta la galla e fa che possiamo camminare nella verità nella verità nella verità si Spirito Santo soffia 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 nella nostra mente e guarisci anche da malattie mentali qualunque sia la malattia mentale guariscici Signore tu ci hai fatto per l'equilibrio per la salute riporta salute guarisci ed ora una mano sul cuore per un'effusione d'amore un'effusione di felicità troppe volte noi rattristiamo lo Spirito Santo lo Spirito Santo ha voglia di gioire dentro di noi è una persona lasciamolo gioire attraverso anche la nostra gioia lasciamo che Gesù disse vi dico queste cose perché che la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena e allora Spirito Santo viene e donaci effusioni di questa rivelazione rivelazione di Gesù che siamo amati unici ripetiboli preziosi che il progetto che c'è un progetto specifico per noi donaci questa gioia di conoscere il progetto di realizzare il progetto di gioire perché siamo preziosi di gioire perché non saremo mai soli di gioire perché siamo più potenti del male in Cristo Gesù oh Spirito Santo effondi effondi la gioia la gioia la gioia un tuo frutto subito dopo l'amore la gioia allora effonditi 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 Spirito di gioia Spirito di gioia e di pace Spirito di gioia e di pace amore, gioia e pace che tutti noi possiamo addormentarci questa sera sentendoci amati gioiendo sapendo che siamo più che vittoriosi e quindi addormentandoci nella pace nella shalom nella tua presenza oh Spirito Santo riempi i nostri cuori e le nostre vite e facci vivere nella pienezza nella pienezza nella pienezza della tua gloria della tua gloria di più abbiamo fame di te perché sappiamo che c'è ancora e molto di più dell'unzione di più della tua gloria di più Spirito Santo noi riceviamo la tua fresca unzione su noi su di noi noi riceviamo la tua fresca unzione e grazie signore grazie grazie signore grazie signore di questa unzione di questa grazia di questa tua presenza solamente possiamo dirti grazie questa sera in questo momento non vogliamo più rattristarti Spirito Santo tu sei in noi vogliamo vivere l'amore che ci comunichi vogliamo vivere la gioia che ci comunichi vogliamo vivere la pace la shalom che è Cristo stesso egli è la nostra pace grazie grazie Spirito Santo perché illuminerai alcuni di noi alcuni di noi faranno delle scelte grazie allo Spirito Santo che che stanno imparando a conoscere qualcuno pregherà i prossimi giorni non è che devi pregare di più convincere Dio ma devi solo ascoltarlo di più devi pregare di più lo Spirito Santo cioè stare di più in adorazione in silenzio e lo Spirito Santo verrà e ti farà prendere le giuste decisioni oh Padre Santo ti chiede nel nome di Gesù di affondere lo Spirito Santo con il dono del consiglio in questi fratelli e sorelle in particolare che devono prendere delle decisioni e altri magari devono prendere delle decisioni qualcuno si deve staccare dalle amicizie sbagliate dona questo Spirito dona questo Spirito perché possa prendere queste decisioni senza più paura e così si ha glorificato Gesù e glorificato il Padre Amen si ha gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli Amen 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 Alleluia Gloria Dio sempre sempre Bene cari fratelli e sorelle godetevi ancora questa presenza dello Spirito Santo e continuiamo a camminare nella fiducia il nemico è già stato sconfitto è stato giudicato noi crediamo siamo figli di Dio siamo amati e con la potenza dello Spirito Santo riusciremo a realizzare il progetto che ha per noi come ci ha detto anche Maria che bello quando i messaggi di Maria vengono a confermare riempire ancora di più queste catechesi di Caris e chi di voi cammina da un po' lo sa che tante volte succede succede questo perché la Madonna è un debole per il crocifisso risorto per tutti noi e quindi camminiamo con lei e lei ci farà conoscere il crocifisso risorto attraverso la potenza dello Spirito Santo un abbraccio a tutti voi ci vediamo nei prossimi incontri